Le donne studiano, si impegnano, lavorano tanto, sono brave, fanno esalti mortali per conciliare il lavoro con gli impegni familiari e alla fine ci riescono, miracolosamente e con ottimi risultati. Ce lo dicono i numeri contenuti nelle statistiche dell'Istat e di settore. Ma c'è un'altra cosa che ci dicono i dati. Gli stipendi delle donne a parità di grado dei colleghi maschi restano in palo. Anche quando una lavoratrice riesce a fare carriera il suo stipendio è inferiore ad un collega maschio. La Regione Lazio ha presentato una proposta di legge per la parità, la distributiva e il sostegno all'occupazione femminile. Ci vogliono buone idee e buone pratiche per cambiare la cultura e la mentalità dei cittadini, ma è necessario per la legge di eri giusti indirizzi.